Ancora viva la polemica sulla posizione presa dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara sulla lettera della preside dell'istituto Leonardo da Vinci in merito all'aggressione avvenuta lo scorso 18 febbraio all'istituto Michelangelo in cui due studenti sono stati colpiti da sei ragazzi di azione studentesca esterni alla scuola. La lettera è del tutto impropria, aveva detto il ministro, una lettera destinata ai ragazzi da parte della preside Savino dove ha parlato di fascismo, odio e indifferenza riferendosi a quanto accaduto invitando poi alla riflessione In Italia non c'è alcuna deriva violenta e autoritaria, non c'è alcun pericolo fascista difendere le frontiere non ha nulla a che vedere con il nazismo, aveva ribattuto il ministro parole che non hanno lasciato indifferenti in un comunicato FLCCGL, CISL, Scuola, UIL, Scuola, RUA fiorentine e nazionali hanno indetto una manifestazione per sabato 4 marzo Una decisione, si legge nel comunicato, presa a seguito dell'aggressione e delle inaccettabili parole del ministro sulla lettera della dirigente scolastica una manifestazione alla quale parteciperà anche il neo eletto alla guida del PD toscano Emiliano Fossi e forse la neo eletta alla segreteria del PD Elish Lane oltre all'assessore all'istruzione della regione toscana Alessandra Nardini Personalmente io ci sarò perché credo che sia un appuntamento importante abbiamo tutti ringraziato, l'abbiamo fatto io, l'ha fatto il presidente subito fin dal primo momento, le parole, la lettera bellissima della dirigente scolastica che ha riconosciuto e che ha espresso con quelle parole il valore educativo che la scuola deve avere Io ho trovato veramente fuori luogo e gravissime le parole del ministro Valditara che non ha neanche condannato l'aggressione fascista squadrista che è avvenuta proprio fuori da una scuola La regione toscana è orgogliosa della lettera e delle parole della dirigente scolastica che incarnano esattamente quello che la scuola deve essere